sono molto contento sono molto carico non vedo l'ora di iniziare di conoscere i miei nuovi compagni per cercare di fare una grande impresa sappiamo che è difficile ma il campionato ancora a lungo abbiamo visto che comunque un campionato dove tutti possono vincere con chiunque noi dobbiamo cercare di fare il risultato in qualsiasi partita contro chiunque si giochi abbiamo una fortuna che comunque non ho mai giocato in questo stadio ma tutti mi raccontano che uno stadio molto caldo dove i tifosi possono darci una grossa mano sicuramente in casa potremo avere un passo in più ma anche quando giocheremo fuori e dobbiamo cercare di portare a casa punti importanti per la salvezza e contro chiunque sicuramente giocare con riveri è una fortuna non lo conosco personalmente avrò modo di conoscerlo ma so sicuramente che è un giocatore che ti può dare un qualcosa in più sotto l'aspetto sicuramente mentale dove ti può dare quella voglia e quella mentalità vincente che solo un campione può avere sì sono un giocatore molto duttile che giochi in molte posizioni e soprattutto nel reparto offensivo credo che la mia posizione ideale sia quella di partire dal centrodestra per potermi a centrare calciare di sinistro ma quello poi è una cosa che vi cederà al mister io dove il mister mi metterà cercherò di fare il mio meglio di mettere le mie qualità a disposizione della squadra sicuramente una responsabilità grossa perché la numero 10 è sempre una maglia pesante dovrò cercare di far vedere quello che valgo sul campo solo sul campo si può dimostrare qualcosa parole troppo semplice è normale che io spero di poter fare bene fin dall'inizio ma poi quello che conta è dimostrarlo sul campo spero anch'io di poter risultare tante volte sotto la curva ho visto qualche qualche partita dalla serenitana ho visto che la curva è molto calda l'unica cosa che posso dire che i tifosi di sostenerci fino alla fine perché sono sicuro che questa squadra lotterà fino a quando ci sarà la possibilità di potersi salvare